Quanti, attenzione! Cos'è pop! Invece tu lunedì andrai a lavorare Sotto il sole a sudare Sotto la pioggia a bestsegnare Il tuo creatore poi corri a casa A chattare con l'aria condizionata Ma chi l'ha pagata e a pasturare Con le 98 e a cominciare Un'altra situazione Con il finestrino aperto Andiamo al mare Facciamoci trasportare Da questa nave Che va veloce Non dimmi che non ti piace Quella facoltà che hai scelto E' che fa vomitare Come il salario Pronti? Azione! Sorridete! E che fa vomitare Come il salario Come il salario Che ti porterà a danzare E a ballare Nei sabato notte Dopo ce le botte Ok, passa dalla macchina Stop un attimo Non so Stop Salve! No, 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 no. Con l'addore del tuo motore comprato a rate ma che fa scopare e amare le troie e le bionde e le rosse. E' però la bionda. C'è, ce l'avevo strappata la mano praticamente. Ci avviciniamo, ci avviciniamo, ok? Il giornalino, che bellino, il giornalino, il corrierino, il tuo cagnolino. Guardate qua, guardate qua. Stop. Il cagnolino deve farsi la foto insieme a voi, ok? Ah, il cagnolino non me l'hai detto. Deve stare così al centro. Il tuo cagnolino e le fotine. Guardate, la partita è preso, più preso. Ok, la cresci, cresci perché l'azione sta andando su. Buona questa azione. 2, 1, go! Go! Grazie, io recupero. La diventa è già stata, però. Lui lo teneva anche un po' di... ...cucini e poi 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 un po' di... Grazie a tutti.